Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca è stato definito il più grande quantitativo sequestrato in Abruzzo di sostanza stupefacente. La squadra mobile della questura di Pescara ha infatti arrestato un corriere della droga che trasportava 5 kg di cocaina. Proveniva dall'Olanda. I dettagli nel servizio di Francesca Romana Testi. Un insospettabile viaggiava come un comune villeggiante con la macchina carica di valigie. Smiley Ramitz, 58 anni, Kosovaro, è stato fermato all'uscita autostradale Pescara Ovest con 5 kg di cocaina. Un quantitativo enorme, valore approssimativo all'ingrosso 250 mila euro al dettaglio, avrebbe potuto fruttare un milione di euro. Un'operazione congiunta tra squadra mobile di Bari e quella di Pescara. La notizia acquisita in maniera confidenziale dell'arrivo di un carico di stupefacenti, in arrivo dal Brennero, per fornire le piazze di Pescara e poi quelle pugliesi. Tre giorni di appostamento ai caselli per individuare il corriere tra sabato e lunedì. Lunedì, nel primo pomeriggio poi l'arresto, controllati i vari soggetti sospetti e compatibili con le informazioni ottenute a Bari. Attività di indagine è stata compresa da Bologna a Pescara. Una macchina con targa tedesca, l'auto del Kosovaro, proveniva proprio dal valico del Brennero, come specificato nella soffiata. La droga era nascosta sotto al pannello dell'alloggiamento della ruota di scorta. Si tratta di un sequestro record per l'Abruzzo. Gli investigatori ora stanno cercando di individuare i destinatari del carico. Si sospetta un'importante famiglia a Roma del Pescarese e si sta cercando di individuare la meta inserita nel TomTom, sequestrato al Kosovaro. L'uomo, residente ad Hannover, è incensurato e dopo l'arresto è stato condotto nel carcere di San Donato. Nessun danno è stato rilevato nel Basso Molise a seguito del terremoto che ha interessato la fascia costiera e i centri dell'Interland. Ieri, poco prima delle 22, l'epicentro è stato rilevato a Larino, in provincia di Campobasso, a 22 km di profondità con una magnitudo di 3,7. La scossa sul Suttoria è stata avvertita distintamente anche in Abruzzo. Il servizio dei colleghi di Terremolise di Fabrizio Occhionero. La terra torna a tremare in Basso Molise. La scossa di terremoto di magnitudo 3,5 con epicentro a Larino e una profondità di 21 km avvenuta le 21,52 di martedì 9 agosto è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Tanta la paura nei centri del cratale sismico, a Termoli e sulla costa, ma il sisma si è sentito anche a Vasto, San Salvo e in altri comuni al confine con l'Abruzzo. Numerose le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco per chiedere informazioni, ma non sono arrivate richieste di intervento per eventuali danni. Io ero seduta su una poltrona e la poltrona si è mossa così, però non ho capito subito che era il terremoto, ho guardato il lampadario, non si muoveva, quindi è stato sussultorio. Mentre una mia cugina ha sentito molto molto bene anche il boato che stava sopra. Ho sentito, c'è qualcosa che veniva a mancare, c'è come un silenzio totale. Nel frattempo sentivo, avevo appoggiato i piedi sul pavimento, un tremolio al pavimento, ma era un tremolio come se si alzava qualcosa. Era a casa, stavo per uscire, c'è stato tanto spavento. All'Arino, il centro più popoloso colpito dal sisma di 14 anni fa, è stato attivato il piano di monitoraggio. Sono stati disposti sopralluoghi? Sia nell'immediatezza e nelle prime ore, durante la sera e la notte di ieri, e con maggiore accuratezza parte l'ufficio tecnico in mattinata. Sono già stati visitati alcuni degli uffici pubblici, fra il Tribunale, le scuole elementari, le scuole medie, gli accertamenti proseguono anche sugli edifici privati, sia del centro storico che delle campagne. Non si rivelano particolari problematicità, però è un primo resoconto solo parziale. Una questione dunque di vulnerabilità dei fabbricati a distanza anche di tanti anni? Beh, quello sicuramente, specie per quelli che non sono stati riparati o che le riparazioni sono in corso d'opera e pertanto sono più vulnerabili. La scossa si è sentita in maniera forte, quindi stiamo molto attenti nel fare le verifiche per certificare se ci sono o meno dei danni. A distanza di tanto tempo, di altre scosse rilevate in questi anni, restano i dubbi e ritardi sul completamento della ricostruzione. Diversi cantieri sono ancora fermi e le imprese, anche a rischio chiusura, aspettano i pagamenti e chiedono alla Regione procedure più veloci per portare liquidità in cassa. Per molti imprenditori diventa in sostanza quasi impossibile anticipare le spese per i materiali e per la mano d'opera in mancanza di fondi tempestivi. Il risultato è quello di trovare impalcature montate ma vuote e gli operai che restano a casa. Cambiamo argomento, torniamo alle polemiche relative al progetto TOTOS per le varianti sulle autostrade a 24 e a 25. Ci sono dei paletti per quel che riguarda i lavori sull'autostrada, dice il Presidente della Regione D'Alfonso. Nessun aumento delle distanze per i comuni è posizione in linea con quelle del Ministero. Il servizio di Daniela Rosone. I lavori sull'autostrada 24 e 25 porteranno solo benefici ai comuni coinvolti. È quanto afferma il Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, per spegnere anche le polemiche che si sono create attorno alle opere. Il Presidente rassicura ai comuni che non ci sarà nessun aumento di distanze rispetto alle situazioni attuali. Noi diciamo che l'aumento della tariffa non può superare il 2% di integrazione l'anno. Noi diciamo che i beni ambientali e idrici non possono essere lesi. Noi diciamo che va mantenuto l'esercizio autostradale nel corso di cantiere e noi diciamo anche che non ci può essere nessun aumento di distanza rispetto all'attuale infrastruttura nei confronti dei paesi serviti dall'infrastruttura autostradale. Cioè tutti i comuni che oggi hanno accesso all'autostrada non devono subire un aumento di distanza con i lavori di rifacimento. Quali lavori? Quelli contemplati dalla norma perché qui si sta mettendo in esecuzione la norma dello Stato che punta la messa in sicurezza. Noi dobbiamo sapere però che alla fine anche il numero degli anni di proroga che verranno concessi dovranno essere anni di proroga compatibili con la valutazione dell'Europa e compatibili con una tariffa di implementazione autostradale che sia compatibile con le esigenze dell'utenza. Secondo D'Alfonso le innovazioni porteranno soltanto beneficio e la posizione della regione è pressoché simile a quella espressa dal Ministero. Dunque le proposte che fa il soggetto gestore dal suo punto di vista del soggetto gestore sono tutte legittime. Dopodiché ci sono valutazioni che vengono fatte dal soggetto decidente che è il Ministero. Il Ministro e il Ministero da nove mesi rappresentano quali sono le condizioni di eseguibilità. C'è la norma che va naturalmente letta e compresa, c'è l'istruttoria che va fatta anche nei comuni dell'Europa e c'è anche quello che ha rappresentato Regione Abruzzo dal punto di vista delle quattro condizioni. E adesso un altro argomento, cambia il sociale in Regione Abruzzo. Ieri il Consiglio regionale infatti ha approvato il nuovo piano sociale finanziato nel periodo 2017-2019 con oltre 200 milioni di euro. Sentiamo. Un cambiamento epocale atteso almeno da 17 anni e questo il commento dell'assessore alle politiche sociali Marinella Sclocco. Dopo il sì definitivo ieri del Consiglio regionale al nuovo piano sociale, vengono ridisegnati gli ambiti territoriali sociali che si uniscono ai distretti sanitari. 24 i nuovi ambiti distrettuali sociali distribuiti su tutto il territorio e che faranno dialogare il mondo dei servizi sociali con quello della sanità. Le ASL insieme agli uffici di piano lavoreranno insieme perché i cittadini devono essere presi in carico nella loro complessità sociale e sanitaria. Ma sono diverse le novità introdotte dalla riforma che arriva al capolinea dopo 18 mesi di consultazioni e avvicina l'Abruzzo alle migliori esperienze italiane in materia toscana ed Emilia Romagna in testa. La coprogettazione diventerà realtà ed eviterà lo spezzettamento dei fondi a disposizione tra il 2017 e il 2019 circa 210 milioni di euro, tra finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Inoltre viene introdotto il principio dell'accreditamento delle strutture di assistenza sociale, così come avviene già per la sanità privata. Più controlli e professionalità degli operatori promette la Sclocco che auspica anche nuove opportunità di lavoro per i laureati nelle discipline sociali. Metteremo le regole in modo da, ripeto, sottolineare le competenze e le professionalità di tutti gli operatori sociali, parlo di psicologi, parlo di assistenti sociali, parlo di os, parlo di infermieri, ma anche le strutture dovranno avere delle regole perché i nostri anziani, i nostri bambini, le nostre donne devono stare in luoghi adeguati. Adesso alla regione spetterà il compito di emanare le linee guida attuative del piano, invece i comuni avranno 90 giorni di tempo per costruire i nuovi ambiti sociali e 150 giorni per scrivere i nuovi piani distrettuali sociali. Sicuramente abbiamo cambiato, quindi sicuramente abbiamo garantito, garantiremo i fondi e anzi ne garantiamo molti di più, ma soprattutto abbiamo cambiato l'assetto, la programmazione. Nella seduta del Consiglio regionale di ieri, l'ultima prima della pausa di Ferragos, è stato approvato anche il documento, la legge di riforma del trasporto pubblico locale, che ha varato, tra le altre cose, un aumento del 15% dei biglietti. C'è un nome e cognome da ringraziare per gli aumenti delle tariffe facilmente individuabili, le cui responsabilità sono emerse clamorosamente durante la seduta. Gianni Chiodi e il suo governo regionale, così il consigliere regionale del Partito Democratico Camillo D'Alessandro, delegato ai trasporti e firmatario della legge, che commenta così dunque l'approvazione della sua stessa norma, accusando il presidente governo di centrodestra. Stratto giro è arrivata la risposta dell'ex presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, che ha dichiarato l'ex sottosegretario Camillo D'Alessandro, in un moto di orgoglio e presunzione per conto del governo D'Alfonso, si arrampica sugli specchi per difendere in modo puerile l'aumento del 15% del prezzo dei biglietti. Ricordo al rancoroso ex sottosegretario, conclude Chiodi, che anche il sottoscritto quando era il governo di questa regione aveva dovuto fronteggiare e pagare pesanti penalità per oltre 528 milioni di euro e nonostante le sanzioni non ha aumentato le tasse. Sempre sul trasporto pubblico locale, possiamo rientrare in studio, interviene anche il Movimento 5 Stelle, che dice che la legge d'Alessandro non solo mette nuovamente le mani in tasca dei cittadini abruzzese tagli ai servizi, ma rischia anche di non ottenere i risultati sperati e questo non è che con gli aumenti tariffari infatti si può sperare di migliorare la redditività del sistema trasporto pubblico. Cambiamo argomento ora, ci spostiamo in provincia di Teramo per parlare dei dati dell'economia. Non c'è la ripresa, anzi, secondo la CGL Teramana, che lancia l'allarme dopo aver letto i dati macroeconomici e occupazionali del 2015, servono interventi urgenti per invertire la tendenza negativa. Sentiamo il servizio. È un quadro drammatico, sia per quanto riguarda la capacità di creare ricchezze del territorio, la ridotta quindi capacità del territorio di produrre reddito. I dati raccontano in maniera impietosa una provincia, quella di Teramo, in piena recessione economica, con mille imprese in meno, poche start-up ed aziende innovative, un tasso di disoccupazione passato dal 5,5% del 2007 all'11,5% del 2015, un territorio che rappresentava l'avanguardia dell'imprenditoria regionale, ora segna il passo. Utilizzo massiccio della CIG ed esplosione del fenomeno dei voucher cresciuti del 53%, solo per citare alcuni fattori, stanno riducendo sempre di più il reddito dei lavoratori. Sia questo ci si aggiunge anche la pressione tributaria dei comuni, che nel 2015 ha toccato il 76,7% in provincia, record regionale, sia la dimensione della complessità del problema lavoro ed occupazione nel Teramano. Noi ci troviamo con una provincia dove i cittadini, questa provincia, hanno fatica sempre più crescente a provare a conservare il proprio reddito, la propria occupazione, hanno una precarietà in alternativa che molto spesso è espressa dai voucher e nello stesso tempo c'è una tassazione locale che è la più alta del centro-sud. Accanto all'analisi della situazione attuale, la CGL di Teramo vuole dare anche le sue ricette per cercare di rilanciare il territorio e il tessuto economico. A partire da due parole magiche, ricerche e innovazione che passano attraverso il connubio con l'università. Poi c'è tutto il tema delle politiche del lavoro e dei fondi del masterplan. Io di far sì che prima possibile vengano in qualche modo rese fruibili, utilizzabili le risorse e le opportunità che ci sono. Mi riferisco a quelle del masterplan, mi riferisco a quella dell'area di crisi complessa, mi riferisco alla decisione sull'area di crisi semplice per quanto riguarda questo territorio. E queste sono, per provare comunque a conservare l'occupazione, il tessuto industriale che ancora rimane e che è importante. Torniamo a Pescara, nuovo piano di intervento per l'area di risulta antistante, la stazione ferroviaria centrale. Questa mattina c'è stato un sopralluogo effettuato dal vice sindaco Enzo Del Vecchio, il quale annuncia la conclusione dei lavori entro, anzi subito dopo, Ferragosto. L'amministrazione comunale di Pescara raccoglie l'appello alla sicurezza lanciato da commercianti e cittadini che lamentano poca sicurezza nell'area di risulta. Area che di sera diventa scenario di presenze che poco fanno stare tranquilli, giovani e meno giovani, che magari chiuse le saracinesche, escono con l'incasso della giornata. E così è già pronto il piano che prevede l'installazione di fari ad alta potenza e di una postazione fissa di polizia municipale. In ordine di priorità sono quelle di una presenza quasi sistematica, quotidiana, delle forze di polizia, di Attiva e anche della Polfer, per quanto riguarda l'individuazione di soggetti senza fissa dimora e per la polizia quotidiana di aree che vengono utilizzate per bivacchi o per nottamenti, per dormire durante la notte. Abbiamo elaborato anche la presenza di un posto fisso di polizia all'interno della biglietteria che ormai è stata messa a gara per l'individuazione dei soggetti che lì devono svolgere la propria attività. Era già prevista la presenza anche di un punto fisso di Pescara Parcheggi. Oggi abbiamo deciso anche di mettere la polizia municipale. I lavori sono già stati avviati e si prevede che l'operazione sarà portata a termine nei giorni successivi al 15 agosto. I lavori sono già in corso, sono stati fatti i basamenti per tre nuove torri faro. Dopo ferragosto verranno alzate queste torri, ogni torre avrà quattro fari da mille watt ciascuno, quindi una maggiore illuminazione di quell'area durante le ore notturne, con sistema di telecamere per ulteriore sistema di sicurezza che si aggiunge a quella della presenza fisica della polizia municipale. Il Pescara grazie ad un accordo con la Camera di Commercio avrà una clubhouse all'interno del porto turistico. L'accordo è stato siglato ieri prima della presentazione delle nuove maglie sempre alla Marina di Pescara fra i presidenti della Camera di Commercio Becci e del club biancazzurro Sebastiani. Paolo Renzetti. Presidente Becci, da oggi il Pescara avrà anche la sua casa al porto turistico. Sì, abbiamo trovato questo accordo che ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Avere un panorama così importante appunto come il campionato di calcio di Serie A, avere il Pescara Calcio, la sua location più prestigiosa qui presso il Marina di Pescara non può che renderci soddisfatti. Il tutto deve essere poi abbinato con questo progetto che abbiamo combinato appunto assieme alla Pescara Calcio che porta al centro due punti. Da una parte questa infrastruttura, il Marina di Pescara, gestita appunto dal Marina SRL e dall'altra parte una serie di tappe che seguiranno il Pescara con la comunicazione sulla tipicità dei nostri prodotti. Ecco, crediamo che questo binomio sia assolutamente un binomio vincente, tanto è vero che abbiamo chiamato la comunicazione a una squadra di Serie A, un territorio di Serie A. Presidente, la squadra cittadina di calcio nel massimo campionato rappresenta un'opportunità finanziaria, economica importante per tutto il territorio? In una parola, con una valorizzazione. Ecco, oggi essere in un panorama così importante, se noi immaginiamo semplicemente che un quarto d'ora dopo la fine delle partite del campionato un trailer sulla partita va in Sud America, in Centro America, in Nord America, nella parte più ricchia dell'Oriente, in tutta Europa. Lei capisce bene quale potenza oggi ha raggiunto questo straordinario veicolo appunto che è il calcio. Ed ora cambiamo argomento, andiamo ad Alba Adriatica per il Carnevale del Mare. E se Marte di Grasso capitasse nella bella stagione, ad Alba Adriatica succede da 23 anni. Il lungomare si popola, la città diventa allegorica ed è qui che inizia la festa. È stato un Carnevale veramente all'insegna della gioia, del divertimento e sinora possiamo dire anche della civile convivenza. Io sono veramente felice ed orgogliosa che questo evento, che è il 23esimo per la città di Alba Adriatica, sia stato veramente un trionfo, grazie anche all'organizzazione dell'associazione APAT con la direzione artistica di Claudio Marastoni che ha portato a questa nostra bella città per il suo sessantesimo compleanno anche degli importanti personaggi del mondo dello spettacolo. Giulia Montanarini, Beppe Convertini, Sebastiano Somma, Giosquillo, che hanno animato questa serata ed effettivamente hanno creato veramente un'attenzione particolare su questo evento che è poi diventato a far parte della nostra storia ed è il clou veramente dell'evento degli eventi della stagione estiva di Alba Adriatica. Mi piace molto questa collaborazione che abbiamo avuto con la regione Marche, ma anche con altre cittadine dell'entroterra che hanno collaborato per poter quindi sfilare ad Alba Adriatica. Ed ora andiamo a scoprire la visita wild alla fortezza di Civitella del Tronto. Storia, musica e falconeria, arti diverse che si intrecciano nella manifestazione visita e concerto wild, una notturna nel suggestivo scenario della fortezza di Civitella del Tronto, tra le più grandi e meglio conservate d'Europa. I partecipanti scortati da lupi ciecoslovacchie e circondati da rapaci notturni saranno guidati alla scoperta delle bellezze del forte che custodisce al suo interno anche un museo mostra dell'antica arte della falconeria. Inoltre, per rendere ancora più speciale l'atmosfera, ci sarà una mongolfiera che sosterà a 70 metri d'altezza proprio sulla fortezza. Le famose visite wild in fortezza con i rapaci e il falconiere si sposterà per la prima volta in un orario notturno per offrire le particolarità della fortezza durante l'ambito notturno. È molto importante prenotarsi perché i numeri per quello che riguarda la visita wild in notturna sono limitati per permettere a chiunque arriva in fortezza per fare questa visita e chiaramente di godere al massimo dell'esperienza notturna. C'è una mostra ormai da tre anni a Civitella del Tronto dove praticamente ci sta tutta la spiegazione sulla storia e la cultura dell'arte della falconeria che è un'arte millenaria e vive ormai da 6.000 anni. Le persone possono visitare la fortezza e guardare questa mostra sia quando ci sono gli animali presenti e perciò quando facciamo le passeggiate wild o anche quando comunque la fortezza è aperta perché è aperta al pubblico. Tutte le persone che vengono comunque rimangono veramente affascinate di questo mondo che ancora oggi sembra un mondo magico che comunque unisce l'uomo alla natura in maniera simbiotica e trasferisce delle emozioni uniche. Ed ora lo sport con il calcio di Serie A in primo piano ultimo amichevole precampionato per il Pescara contro la Vastese ieri sera all'Aragona è finita 0-3 per i Biancazzurri. Servizio. Prosegue la marcia di avvicinamento dei Biancazzurri all'esordio di campionato. Ieri sera a Vasto dinanzi ad una bella cornice di pubblico i ragazzi di Oddo hanno superato i Biancorossi per 3-0 nell'ultima amichevole precampionato. Da sabato infatti si inizierà a fare sul serio con l'esordio in Coppa Italia con il Frosinone allo Stadio Adriatico. Al cospetto degli Aragonesi i Biancazzurri scesi in campo con qualche assenza hanno fatto vedere buone cose e mostrato anche una buona condizione fisica. Peccato per l'infortunio occorso a Nicastro che dopo uno scontro di gioco è stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 19 minuti del primo tempo. L'ex Stabiese, unica punta centrale di ruolo in Coppa per la squalifica di Manai, potrebbe saltare la sfida con i Ciocciari. In evidenza ieri allo Stadio Aragona il giovane Nando del Sole subentrato proprio a Nicastro è autore di una doppietta. Il primo gol segnato allo scadere del primo tempo dopo una bella azione corale della squadra e la seconda rete al 38esimo della ripresa con un bel tiro che non ha lasciato scampo al russo. Nel mezzo al 16esimo della ripresa il gol di Cristante con Crescenzi e lo stesso del Sole fra i migliori nella calda serata vastese. Ed ora andiamo ad ascoltare il presidente del Pescara Daniele Sebastiani sul mercato del Delfino. A proposito di arrivi, aveva detto il presidente, in settimana potrebbe arrivare qualche nuovo giocatore? Siamo ad ore? No, stiamo definendo alcune cose che riteniamo siano importanti per completare la squadra che è già di per sé una buona squadra e in questi giorni vedremo se sarà possibile e arriveranno in questi giorni, altrimenti nella prossima settimana. Però stiamo lavorando per far sì che la squadra sia completa e possa partire per il campionato il meglio possibile. Per la difesa Ghiomber e Da Silva sono i giocatori comunque più vicini al Pescara? Sono tra i giocatori che stiamo vedendo, però vedremo perché tanto poi come diciamo un nome magari arrivano altre dieci squadre, allora ce le teniamo per noi queste cose e speriamo che nei prossimi giorni possiamo chiudere queste trattative in maniera tale da mettere la parola fine almeno al reparto difensivo. Quanto riguarda invece l'attacco, Trotta è il nome più gettonato, poi però c'è l'attaccante che potrebbe essere l'attaccante straniero del Pescara nel prossimo campionato? No, come dice anche il mister, non ci sono i nomi che vanno in campo, ci sono giocatori validi che possono fare al caso nostro e stiamo cercando quelli. Ci saranno anche delle cessioni da qui alla fine del mercato? No, cessioni no, penso ci saranno delle uscite di qualcuno che deve andare a giocare perché chiaramente dopo diventiamo tanti. Bulevardi al Teramo? Bulevardi al Teramo si può fare e penso che nei prossimi giorni si chiuderà. E parliamo adesso proprio del Teramo. Fumata nera nell'incontro di ieri fra la società e il centrocampista Stefano Maddio per il rinnovo del contratto. Oggi probabile aggiornamento ma le parti sono ancora distanti. Jacopo Forcella. Niente accordo. Tra Stefano Maddio e il Teramo rischia di calare il grande gelo. L'incontro di ieri non solo non ha partorito il tanto agognato rinnovo di contratto ma ha visto probabilmente le due parti allontanarsi. Sì, perché non c'è stato alcun avvicinamento a distanza di una settimana. Ieri pomeriggio il centrocampista romano in compagnia del suo procuratore Carlo Di Renzo ha incontrato i vertici del sudalizio bianco-rosso. Presente anche il patron Campitelli insieme al direttore sportivo Fabio Lupe, al direttore generale Gianluca Scacchioli. La proposta di rinnovo del club sul solco di quanto già proposto e accettato da altri componenti della Rosa e che il giocatore non aveva preso in considerazione qualche tempo fa è stata riproposta senza alcun esito. Amadio, su cui comunque c'è ancora l'interesse, è del latino di Vivarini. L'offerta non c'è mai stata, ma è anche vero che i nerazzurri aspettano di vedere quali saranno gli sviluppi della vicenda col Teramo prima di tentare l'affondo. Di fatto la posizione del centrocampista è chiara. Se il valore di mercato che ne dà il Teramo per lasciarlo partire lo pone tra i big della Rosa anche il contratto deve essere sulla stessa linea d'onda. In serata, dopo l'incontro con Amadio e Di Renzo, super summit del Teramo, oltre al presidente e ai due direttori, anche la presenza di Lamberto Zauli. La sensazione è che la dirigenza lo abbia voluto mettere al corrente e che probabilmente dovrà fare a meno di Amadio che, a meno di aggiornamenti previsti già oggi, sembra destinato a passare o una stagione in tribuna o più prevedibilmente a partire. A meno che oggi non cambi qualcosa, anche se alla distanza tra le parti non sembra lasciare spazio all'ottimismo. Proseguiamo con il calcio. Una notizia che riguarda il calcio frentano. Domani si costituisce a Lanciano l'associazione culturale rosso-nera con una quota di partecipazione minima di 50 euro. Si avrà diritto a vedere tutte le partite della Marcianese da un voto per le decisioni dell'associazione. L'obiettivo è non far scomparire i colori rosso-neri dopo la mancata iscrizione della Virtus Lanciano e l'addio dei Maio con la scomparsa della squadra dai campionati professionistici. La Marcianese, che l'anno prossimo si chiamerà Lanciano, affronterà il campionato dilettantistico di prima categoria. In caso di promozione potrebbe effettuare un doppio salto approdando dell'eccellenza regionale tramite ripescaggio. Adesso ci occupiamo di basket. Riparte la nuova stagione del Campli. Dopo i play-off dell'anno passato, la società bianco-rossa ha confermato il coach Pietro Millina. La rosa sarà presentata il 17 di agosto nella cornice del Palazzo Farnese. Ascoltiamo le prospettive della squadra e della nuova stagione nelle parole del Presidente Onorario, l'Avvocato Lucio Del Paggio. L'Avvocato Del Paggio riparte la stagione del Campli Basket. Innanzitutto partiamo dalle cose recenti con il primo contatto della nuova squadra con i tifosi che ci sarà il 17 agosto e ci sarà una cena in cui sarà presentata la nuova squadra Farnese. Certo, prima alle 19 nella sala consigliare del Comune ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Una squadra nuova per buona parte rispetto all'anno scorso. con elementi di provata esperienza e giovani promesse dalle quali veramente ci aspettiamo molto. È stato un lavoro molto accurato la scelta, compiuta dal nostro allenatore Piero Millina che abbiamo confermato e che credo abbia messo su un bel gruppo di giovani. Soprattutto pronti a interpretare quello che è lo spirito della palacanestro camplese perché noi il 17 presenteremo la squadra, avremo tanti tifosi presenti ma poi festeggeremo insieme in una conviviale questo evento perché lo spirito della nostra associazione è quello proprio dell'amicizia, della coesione, della compartecipazione, della condivisione. Siamo un gruppo di persone, ma centinaia di persone. Abbiamo lanciato qualche tempo fa l'operazione Al Cuore si comanda perché ho fatto cancellare il non si comanda e abbiamo già avuto un centinaio di tesserati e sta proseguendo questa grande sottoscrizione nel cui ambito ciascuno mette quello che vuole. Però è bello perché tutti partecipano, tutti si sentono partecipi di questa grande istituzione della campresità che continua, noi l'anno prossimo compiremo 60 anni di ininterrotta partecipazione ai campionati nazionali che continuano con una tradizione storica ma con un entusiasmo e una passione sempre rinnovata. Ecco, il 17 sarà l'occasione per rivivere in maniera rinnovata questa passione. La prima edizione del TG6 termina qui. Io vi ricordo i prossimi appuntamenti con la nostra informazione alle ore 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata.